Delebio sotto shock, nel paese della bassa Valtellina abitava Sergio Cecigliani, titolare assieme al fratello Massimo di una nota azienda di autotrasporto. La sua vita si è interrotta bruscamente ieri sull'autostrada A1 all'altezza di Cadeo, in provincia di Piacenza. Lungo la caraggiata Nord, l'impatto con autocisterna che trasportava GPL. Coinvolta in uno scontro anche un'auto con a bordo due turiste tedesche, entrambe illese. Purtroppo per Sergio Cecigliani e per il conducente dell'autocisterna, Donato Belli, 50 anni di pisogne, non c'è stato nulla da fare. Il tratto di autostrada fra Piacenza e Fiorenzuola è rimasto chiuso per ore. Dopo lo schianto è infatti divampato un pauroso incendio, come si può vedere dalle immagini girate dai vigili fuoco intervenuti per domare le fiamme. L'identità dei due conducenti è emersa solo nel tardo pomeriggio e in serata la voce è circolata anche a Delebio. Il paese è sotto shock, ci spiega il sindaco Erich Alberti, e si stringe attorno alla famiglia Cecigliani, conosciuta e ben voluta da tutti. Sergio, ricorda il sindaco, era persona stimata e apprezzata, per dar la vita sul lavoro, così distante da casa, una tragedia che ci lascia sgomenti. La famiglia Cecigliani, sottolinea Erich Alberti, è molto apprezzata per la correttezza e per l'impegno nel sociale. Il fratello di Sergio ha promosso una serie di iniziative benefiche, raccolte fondi per sostenere la onlus Maria Letizia Verga. Stasera, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale, la comunità delle biese è invitata a partecipare alla recita del rosario. Sergio Cecigliani lascia la moglie Daniela e tre figli.